Ciao, ciao a tutti, buongiorno, buonasera anzi perché è pomeriggio, tardo pomeriggio, ma oggi ho preparato un po' di informazioni per il video e volevo condividerle con voi. Oggi video dei top del periodo, top skin care viso del periodo. Allora, cosa vi devo dire? Innanzitutto grazie, grazie, grazie perché nell'ultimo video ho avuto davvero un sacco di visualizzazioni, vuol dire che tante persone che mi seguono aspettavano questo mio espluà creativo e ne sono davvero molto molto contenta. Grazie per i commenti che mi avete lasciato, grazie per le tantissime nuove iscrizioni, ci sono state veramente tantissime iscrizioni, siamo quasi a 1800 iscritti che per me è davvero un numero altissimo, anche se poi magari non è così, quindi vi ringrazio davvero di cuore. Se sentite delle urla sono i bambini del vicinato che stanno giocando ancora in cortile, beati loro che giocano in cortile e che non sono in casa, quindi ci faranno un po' compagnia i nostri amici bambini. Allora, top del momento, top di skin care che io ho apprezzato tantissimo, ho avuto modo di provarli la maggior parte per quasi tutta l'estate, alcuni scoperti da due settimane ma che mi stanno piacendo tantissimi. Non sono le uniche cose che sto usando, sto alternando anche per testare un po' di prodotti, ma sono quelle che al momento uso praticamente quasi sempre sia nella skin care del mattino che nella skin care serale. Abbiamo cambiato ancora posizione, sono nella zona autunnale della mia cucina con le candeline accese, fuori sta diventando brutto tempo, domani dovrebbe piovere, quindi visto che ho un'oretta di tempo ho pensato di farci una reciproca compagnia chiacchierando un po' insieme di cose che ci piacciono. Mi spiace per chi, il mio amico Luca che fa la maglia ed è bravissimo e che a lui gli svuota la spesa e i prodotti cosmetici non gli piacciono male, male perché anche gli uomini usano i prodotti cosmetici, anche gli uomini fanno la spesa, lavano e stirano, almeno mio marito lo fa ed è, come dice mia mamma, il santo. Ma torniamo a noi, torniamo a noi. Allora, primo prodotto in assoluto che vi voglio far conoscere, ma che sicuramente conoscete già perché io sono l'ultima persona che lo sta provando, ma che avevo intenzione di comprare e nel primo giorno di covid mi è arrivata questa mail dall'azienda che mi proponeva di provare questo duo. E avrete già capito di cosa sto parlando, questo duo meraviglioso di cui ho sentito parlare solo ed esclusivamente bene, ma non solo dalle persone a cui è stato inviato e che magari voi potete pensare, eh sì, te l'hanno regalato, certo che ne parli bene. No, no, perché l'azienda è stata veramente molto, molto sincera, mi ha chiesto di dare una recensione, un parere, una recensione, un parere onesto su questo prodotto, su questi prodotti e soprattutto mi ha chiesto se ci fosse qualcosa che non mi fosse piaciuto o mi dava allergia, mi dava qualche problema, per piacere di comunicarlo che loro avrebbero fatto in modo, visto che sono comunque sempre in ricerca, sempre in miglioramento, di comunque far sapere a chi ha formulato questo prodotto le mie perplessità. Di perplessità non ne ho avute, ma ragazzi, io questo lo volevo comprare con uno sconto che era offerto dalle amiche youtuber che l'hanno già provato. Quando mi è arrivata la proposta di provarlo, chiaramente ho accettato perché ero molto curiosa e vi dirò di più. Se andate su uno dei video in cui ne parla la mia amica Simona di Beauty Passion, io proprio in quel video le ho detto che il suo contorno occhi era visibilmente migliorato proprio perché stava usando questi prodotti. Quindi è una cosa che si nota. Allora, premetto che io non ho tante rughe nel contorno occhi, non ho mai avuto delle occhiaie. Però in questo periodo del covid, dove la prima settimana praticamente non ho dormito per il fortissimo mal di testa che mi accompagnava, alla mattina avevo delle occhiaie molto scure. Vabbè, ero in casa, non mi interessava e allora a questo punto ho provato questi fantastici prodotti. Tra l'altro appunto vi arriva una scatolina così che è meravigliosa, con le due confezioni che sono veramente molto molto eleganti. davvero carine e dentro abbiamo un siero che è questo, confezione in vetro, bellissima, vetro scuro per proteggere da qualsiasi contaminazione di luce il prodotto e nell'altro abbiamo la crema con tornocchi che ha tra l'altro questo beccuccio di protezione che è comodissimo per chiudere. Allora, io li ho provati costantemente da 10-12 giorni, mattina e sera. Alla mattina uso una quantità normale, alla sera, il siero lo metto comunque in quantità normale. Di crema faccio un bel impacco e devo dire che io il miglioramento sulle mie occhiaie e sui miei occhi l'ho trovato. Sicuramente era un periodo particolare dove non stavo bene, dove non dormivo, dove gli occhi erano gonfi, dove mi sono venute delle occhiaie ma, allora, non è che nel giro di 10 giorni mi sono trasformata, come non può nessun cosmetico fare ma ho veramente notato un notevole miglioramento. Parlavo anche con un'altra amica che non ha un canale YouTube ma che ha provato questi prodotti di sua iniziativa e lei mi ha detto che li ha usati tutta estate e si è trovata benissimo. Quindi è ancora di più una conferma della validità di questi meravigliosi prodotti, di questo duo. Allora, il siero, adesso ve lo mostro. E' così. Non troppo liquido, non denso. Si assorbe veramente subito, nel senso che io, quando ho messo il siero, ho detto aiuto qui, ci vuole un po'. Il tempo di mettere due gocce, proprio neanche spalmarlo, cioè tirarlo verso la fine dell'occhio, verso qui alla fine dello zigomo chiudere il barattolino e rimetterlo nella scatolina, il siero è completamente assorbito. Si assorbe veramente, non è appiccicoso, non è lattiginoso, non è unto e non so come dire, io sento subito un effetto tensore sugli occhi, come se ci fosse qualcosa che mi li spinge, che mi leviga, che mi pialla bene. Poi, in combo, c'è la crema contorno occhi. Qui dice di metterne la quantità di un chicco di riso e io alla mattina ne metto così. E anche questa, vedete, si spalma subito, non fa scia bianca, è spettacolare. La sensazione che voi avete sull'occhio è una sensazione di una crema che ha consistenza ma che non è pesante e è subito assorbita, cioè quasi da far fatica a passare la mano, non sentite nessuna ontuosità, non sentite nulla. e secondo me è un duo spettacolare. Allora, io l'ho appena iniziato, lo sto usando abbondantemente mattina e sera e soprattutto la crema alla sera faccio proprio un bell'impacco, cioè me la picchietto sull'occhio, sembro un po' una pazza, io sapete che non ci vedo neanche più nella telecamera, non so neanche, spero che la luminosità sia giusta. È una crema che appunto anche messa in abbondanza si assorbe nel giro di un minuto o due, ma faccio proprio un bell'impacco. E alla mattina i miei occhi sono diversi, cioè secondo me questo prodotto fa la differenza. Allora, che cosa c'è all'interno? Del siero è un siero che, scusate, ce l'ho qua letto, mi sono preparata, ma poi le cose vado sempre in pappa. C'è all'interno l'acido ascorbico che è la vitamina C, che aiuta a neutralizzare i radicali liberi e a proteggere la pelle dagli effetti dello stress ambientale e dall'inquinamento. E c'è l'aniacinamide, l'aniacinamide sulla mia pelle fa sempre miracoli, ce l'ho provata anche sul viso, poi vi farò vedere dei sieri, un siero portentoso che mi sta aiutando tantissimo e su di me fa miracoli. C'è l'aniacinamide che è la vitamina B3 e l'acido nicotinico che quindi dà un po' di energia, no? Per me questo duo è quasi miracoloso, a me piace davvero tantissimo. I pori, le rughette si attenuano, io sento proprio, a parte le rughette che io vi ripeto non ne ho tantissimo, forse sono io che vedo gli occhi di una cinquantenne ma non ho tantissime rughe, se voi potete vedere, voglio dire. Però vi devo dire che sento effettivamente un effetto tensore, un effetto rimpolpante e secondo me questo è un duo strepitoso. Allora, dove lo si acquista, se volete, dove lo acquistate? Lo si può acquistare su Amazon e anche a me hanno un offerto, uno sconto, uno sconto del 20%, quindi questo duo, il kit insieme, viene al momento 20,39€, è leggermente scontato adesso su Amazon, 20,39€ per due prodotti, entrambi di 30ml, se non ricordo male, fatemi controllare, ma... esatto, di 30ml e abbiamo uno sconto che è stato dato a noi per il canale del 20%, quindi se volete provare un prodotto che secondo me, anzi due prodotti che secondo me sono ottimi ad un prezzo relativamente basso, perché se tenete conto che costano 10€ l'uno, sono dei sieri e delle creme, possiamo dire, low cost, che hanno veramente un effetto sulla vostra occhiaia, sul vostro contorno occhi, sulle piccole rughette, ecco io la cosa principale che ho visto è che ha tolto lo scuro delle occhiaie che avevo in questi giorni e ha un effetto rimpolpante e molto tensore proprio sul contorno occhi. L'ho messo anche sulle mie palpebre, che di solito sono palpebre sensibili, non mi ha dato nessun tipo di problema. Allora, non è che ho spalmato un quintale di prodotto, ho messo il rimasullio che avevo sui polpastrelli, me lo sono spalmato anche sulle palpebre, assolutamente nessun tipo di problema, quindi io ve lo consiglio e vi ripeto, se non l'avessi ricevuto da provare, comunque l'avrei comprato perché ho sentito soltanto parlare benissimo di questi due prodotti. L'azienda è Imim e la trovate su Amazon. E questo era i primi due top che vi volevo presentare. Poi ho una carrellata lunga di prodotti, quindi con calma prendiamoci una crisana, lavorate a maglia. E ascoltate la Eli che vi dice che cosa gli è piaciuto in questo periodo. Allora, primo prodotto che vi voglio consigliare. Burro struccante. Ho ricominciato a truccarmi perché non fa più caldo, anche se il mio trucco al momento è molto leggero. Io oggi ho soltanto un po' di cipria opacizzante, la mia cipria storica di Kiko, e un po' di farda, lo dico ancora alla moda vintage. Un po' di farda, una matita sugli occhi al rimel. Stop, questo è il mio trucco di oggi. E per struccarmi io ho provato anche degli oli. Sì, mi piacciono, ma non mi piacciono quanto un burro struccante. Questo tenete conto che io l'ho iniziato... Ho fatto maggio-giugno, luglio non mi sono truccata, non l'ho usato perché effettivamente era too much. E ho ricominciato a fine agosto. Ne basta uno zic, ma proprio uno zic, altrimenti vi può creare per esempio delle imperfezioni, può farvi uscire dei brufoletti, ma perché ne usate una quantità che non è quella corretta. Ne basta, io ne uso così. Questa è la quantità che uso io. Ok? Questo per me, tra tutti gli struccanti che al momento ho usato, è favoloso. Pazzesco, buonissimo. È uno struccante di marca coreana, Yada, non so se si dice così, prendetela per quello che è. Green Tea Pur Cleansing Balm. Allora, è un burro struccante che pulisce a fondo da qualsiasi tipo di trucco. L'ho usato anche l'anno di appunto maggio-giugno, quando comunque avevo il fondotinta, alcune volte truccavo tanto gli occhi, quindi vi rimuove l'acqua a qualunque. Io non uso quasi mai nulla per struccare gli occhi, a meno che quella volta che so che devo uscire metto, soprattutto se ho un trucco che mi deve durare tutto il giorno, allora metto il mascara waterproof, ma non lo uso quasi mai, perché non mi piace. Altrimenti uso appunto la matita, il mascara, il primer per il mascara, i vari ombretti, eccetera, eccetera. Questo vi rimuove tutto, tutto, senza fare un primo passaggio di struccaggio agli occhi, almeno per me. Poi magari facciamo una skin care serale quando sono truccata e lo vediamo in azione, perché per me è portentoso. Si scioglie immediatamente quando voi lo mettete sulle mani, io lo metto un attimo sulle mani con il calore delle mani, diventa già un olio, lo si spalma sulla faccia e la prima cosa che voi sentite è una sensazione di benessere, di coccola, di questo burro che vi avvolge il viso, a me piace tantissimo la sensazione che mi dà, ovviamente quando non fa caldo, altrimenti vi sentite proprio una patatina fritta. Ma con queste temperature è l'ideale, si scioglie veramente sulla mano, voi lo andate a spalmare anche sugli occhi molto delicatamente, fate dei massaggi molto 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 delicati, non dovete insistere troppo, vi strucca quello che avete su senza assolutamente nessun tipo di problema, poi vi bagnate le mani con l'acqua e fate un massaggio. Cosa succede? Questo burro struccante con il contatto dell'acqua diventa una crema molto leggera, bianca, consistenza lattea, che finisce poi di detergere il viso. La particolarità è che quando io ho provato altri burri struccanti o altri oli struccanti e che quando poi sciacquo le mani sotto l'acqua io sento una sensazione di unto, questo vi dà una sensazione di mani pulite come quando vi lavate con la saponetta, non vi lascia la pelle che tira, vi lascia la pelle pulita, detersa, purificata perché comunque c'è la polvere di tè verde, è per me una cosa spaziale. Questo io ve lo consiglio, questo l'avevo comprato di mia iniziativa nei miei primi acquisti di skincare, l'avevo comprato su Stylevana, ma non c'era ancora il sito in italiano, c'era il sito europeo e sono andata a controllare il prezzo di oggi è 15,03 euro per 100 ml di prodotto, ma vi durano, non dico un anno, ma quasi. Questo per me è favoloso. Allora, tanti prodotti che vi mostrerò questa sera sono comunque di Stylevana, vi ricordo che noi abbiamo sempre lo sconto, fateci un giretto, secondo me ne vale la pena, purtroppo le spedizioni in questo ultimo periodo sono un po' rallentate, io ho fatto un ordine per delle cose che, delle serie essence e miste, perché io senza di queste non riesco a stare, ve l'ho già detto, per me la miste e la essence sono due passaggi fondamentali della skincare. Ho fatto un po' di scorta perché le ho finite praticamente tutte e non hanno ancora spedito perché c'è un problema di approvvigionamento di articoli. Ecco, se non avete urgenza e volete fare qualche scorta di prodotti ottimi con dei prezzi assolutamente concorrenziali, io vi consiglio il sito di Stylevana, assolutamente. Non solo perché ricevo i prodotti da provare, ne ho ricevuto per due volte i prodotti da provare, ma perché io acquisto sul sito di Stylevana ancora prima che provassi i prodotti che mi hanno mangiato, quindi sono una consumatrice di prodotti coreani. Questo io ve lo consiglio, per me è favoloso, veramente favoloso. Poi, altro prodotto di cui sono quasi arrivata alla fine perché sono arrivata qua, questo io l'ho usato tutta l'estate e ne ho ancora, tutta l'estate, mattina e sera. Questo è un prodotto di Stylevana che mi ha omaggiato, che mi ha mandato in una delle puntate precedenti dove ve l'ho recensito in maniera un po' più tecnica. Beauty of Josson Green Plum Refreshing Cleanser, costa 9,96 ad oggi, è un detergente molto 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 delicato che regala una pelle morbida, una pelle pulita, deterge a fondo, ha un profumo molto delicato, quasi inesistente, quindi assolutamente anche per chi magari non apprezza i cosmetici con dei profumi forti, con dei profumi più riti, questo quasi non ha profumo. E quello che io ho notato è che quando uso questo detergente la pelle è più bianca, è più luminosa, è più chiara, è più schiarita. A me dà questo effetto, so che non l'ha dato soltanto a me, anche ad altre amiche che lo hanno provato, per me questo è un detergente veramente validissimo. La schiuma che fa è una schiuma molto delicata ma nello stesso tempo molto corposa, cioè vi rimane sia sulle mani che sulla faccia quando andate a massaggiare. Anche qua, come secondo step, prima il burro o un olio struccante, poi il detergente schiumoso. Io questo detergente l'ho trovato davvero spaziale, perfetto, 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 perfetto. Anche quando non avete un trucco da rimuovere, generalmente io la mattina faccio una passata di acqua micellare proprio per rinfrescare la faccia e poi mi detergo con un detergente schiumogeno. Questo è veramente uno dei migliori, uno tra i migliori che ho provato. Stupendo. E questo è sempre sul sito di Stylevana. Altro detergente meraviglioso, 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 strong, un po' più strong di questo. Questo è veramente molto delicato. Questo è un pochino più strong, infatti io questo lo uso solo ed esclusivamente alla sera. Purtroppo sul sito di Stylevana.it, che è quello in italiano, non lo trovate. Questo io l'avevo comprato sempre su Stylevana, ma sempre all'inizio della mia carriera di skin care e lì lo trovate ancora. Questo ha un costo di 6,69, è scontato, in questo momento sono 200... Aspettate che non vedo la quantità. 145 ml di prodotto, ma io questo lo sto usando da tantissimo e non finisce, non finisce mai, si riproduce. Ma questo ragazzi è una bomba. Allora, innanzitutto ha un profumo fruttato, si sente quasi un mix di frutti rossi e di melagrana. Per me è meraviglioso. Di questi non vi faccio vedere la consistenza perché non ho niente per sciacquarmi, però vabbè ve lo faccio vedere così. È una crema bianca, un detergente bianco, una cremina bianca. Questo non dovete abusarne di quantità perché altrimenti diventate un pupazzo di neve. Perché ha una schiuma che è una cosa pazzesca. Cioè voi più massaggiate, più vi lavate la faccia, più massaggiate, più diventate come la bubble mask. Tanto per intenderci. Quindi ne basta un granellino di riso e vi rimuove tutto quello che avete sulla faccia. È molto molto efficace. Perfetto per le pelli miste e grasse perché è anche leggermente astringente e sgrassante. Quindi non lo consiglio alle pelli super delicate, alle pelli secche per me. Sulla mia pelle mista grassa fa il suo dovere e lo fa alla perfezione. Sgrassa, pulisce a fondo, purifica. Su una pelle delicata ci andrei un attimo con i piedini di piombo perché magari potrebbe anche irritare o magari bruciare. Non so se sia in esaurimento perché appunto sul sito di stylevana.it non l'ho trovato. C'è tutto il resto della linea, o comunque parte della linea di frudia, di questo colore, il color rosa. Che è tutta la linea al melograno ma non ho trovato il detergente. L'ho trovato invece su stylevana.com. È in sconto a 6,69 euro. Se lo volete provare, io spassionatamente ve lo consiglio perché questo è un detergente favoloso. Rimuove qualsiasi cosa. Top. Poi, non è che voglio fare la pubblicità dei prodotti stylevana. Nel senso che io mi sono trovata benissimo. Gli ho usati, strausati, soprattutto questi due. E mi piacciono, cioè i prodotti coreani hanno una marca in più, non so cosa dirvi. Questa mista, vedete, sono a più di metà. Adesso sto andando proprio con uno spruzzino ogni tanto perché se non mi arrivano gli altri non ho più la mia mista. Io senza mista non so stare. Quando metto la mista, quando io mi sono prima detersa con il burro, con l'olio struccante. Poi mi sono detersa con un detergente schiumoso. La pelle ovviamente ha subito un po' di stress perché chiaramente lavando e togliendo tutto, tolgo anche la protezione del sebo che protegge la pelle. A questo punto vado a reintegrare con la mista. Questa mista, ve l'avevo già fatta vedere quando mi era arrivata, è favolosa. Ha una vaporizzazione impalpabile, cioè quando voi la spruzzate, ne potete spruzzare anche un quintale, in esattamente un nanosecondo si assorbe. E quando voi toccate la vostra pelle, la pelle è rimpolpata, è più polposa, non so come dirvi. Questa mista per me è favolosa. È una mista al collagene di salmone che nutre la pelle, la rimpolpa, la elasticizza ed è indicato per pelli che hanno un colorito spento, che sono un po' flaccide, che non hanno tono. Ecco, io con questa mista mi sono trovata benissimo e ho veramente trovato l'effetto rimpolpante, tonificante, delicatissima, ha un profumo di fiori meraviglioso. Guardate, spero che si possa vedere. Non la vedete neanche. E quindi, non c'è più, è meravigliosa. È meravigliosa. È meravigliosa. Io adoro le mista e adoro questa mista. Questa mista è della marca, aspettate, Kai ed è al collagene di salmone. Anche questa ha un prezzo irrisorio, secondo me, perché per, e anche qua ci vediamo benissimo, Elena, 100 ml, 12,89€ e credetemi, questi prezzi non li trovate, non li trovate. Se poi tenete conto che avete degli sconti, che più accumulate punti quando acquistate, vi arrivano degli sconti in più che potete accumulare allo sconto offerto, ragazzi, per me, fateci un pensierino stupendo. Poi vi lascio tutte le indicazioni dello sconto, che è al 10% fino a un importo di 48€, se non ricordo male, aumenta e diventa al 15% quando superate questo importo. È faboloso, fabolosa, fabolosa. Poi, dopo la mista, dopo la mista metto il tonico e in questo momento il tonico che sto utilizzando, ecco, questo è uno degli ultimi prodotti che ho provato, perché sto usando sempre quello alla centella, ma adesso che comincio a truccarmi ho bisogno di un tonico, soprattutto alla mattina, che sia un tonico un po' opacizzante, un po' astringente, un po' purificante. Questo l'avevo comprato sul sito di make-up.it e l'ho pagato 4,51€. È una marca, un brand polacco, è un tonico che si spruzza, anche questo ha una bellissima vaporizzazione. Il profumo è un profumo molto fresco, molto delicato, che mi ricorda quelle cascate che trovate in montagna, quelle cascate che dalle rocce sgorgano quando siete su un sentiero di montagna. E quella sensazione che avete quando passate è che la bruma, si dice, non sono sicura, mi pare bruma dell'acqua, forse è un termine dialettale che usava il mio papà, la bruma dell'acqua. Quando voi passate avete quella sensazione di freschezza, se magari c'è anche un ponticello, vi sarà capitato quando c'è la cascata e vi arriva le goccioline, le micro goccioline della cascata che scende e che tocca il suolo. Ecco, è la stessa sensazione. In più, adesso vi dico cosa contiene. Allora, la formula leggera contiene l'estratto di foglie di manuka, estratto di manderle e provitamina B5. Dunque, è un tonico comunque delicato, non irrita, non è sensibilizzante, anche se avete dei brufoletti o delle piccole imperfezioni, non vi dà assolutamente fastidio, però io ho trovato che questo tonico mi aiuta a tenere sotto controllo il sebo e la lucidità, soprattutto dopo che mi sono truccata. L'ho veramente sperimentato in questi giorni e secondo me è ottimo, poi ha un prezzo che è quasi stupido da dire, cioè 4,51€ per 200ml, questo mi durerà una vita intera. E questo l'ho acquistato su Makeup. Poi dopo vi lascio comunque tutti i riferimenti, tutti i link sotto, così non perdete assolutamente niente. Di questa linea io ho comprato anche la crema giorno, che però non ho ancora utilizzato perché ne sto utilizzando delle altre, ed ho comprato la maschera notte, le proverò e poi vi dirò come sono. I prezzi sono comunque davvero molto molto piccoli, molto low cost. Allora, due prodotti che sto amando. Questo è finito, cioè praticamente lo vedrete nei finiti del prossimo mese. Questa maschera, sempre comprata sul sito di Stylevana, sempre all'inizio del mio percorso di skincare, questo non ve lo ripeto più, ho preso il formato da viaggio, il travel sites, perché non la conoscevo, avevo sentito dei pareri che non erano super positivi, soprattutto per il profumo, perché non mi piace dire odore, perché comunque ha un profumo, questa maschera, molto particolare. Allora, è una maschera lenitiva, sfiammante, rinfrescante, molto delicata, che contiene il 100% di estratto di Artemisia. Sapete che l'Artemisia comunque è una pianta molto lenitiva, che lenisce gli arrossamenti, aiuta nella formazione di discromie, cioè aiuta a disarrossare, disinfiammare la pelle. Allora, la prima volta che l'ho messa, adesso vabbè, io ve la faccio vedere qua, poi dopo me la vado a togliere. Non ce n'è più, è troppo buona. Vediamo. Ah, non ce n'è, eccola qua. Allora, ha questo colorino marrone. All'interno ci sono le foglie tritate e macerate di Artemisia. Il profumo, sono d'accordo che possa non piacere. Poi devo andare a lavarmi, perché non mi sono portate alle salviettine. Il profumo può non piacere, perché ha un profumo molto erbaceo. Un profumo di quei macerati da farmacia delle abbazie dei monaci benedettini. Vi ho dato l'idea? Ok. Il profumo è quello, quindi sicuramente potrebbe non piacervi. Ma quando voi mettete questa maschera, dopo aver deterso il viso, cioè, voi avete una ventata di acqua fresca. Cioè, voi avete dell'acqua fresca che non cola sul viso. Una sensazione di benessere favolosa. Allora, io l'ho provata quest'estate. Me la sono portata in montagna. L'ho provata quest'estate dopo che mi ero leggermente arrossata. Avevo preso il sole in una giornata in alta montagna, sui 2500 metri, che c'era il sole. Non ti accorgi che prendi il sole, perché c'è anche molto vento. E quindi quando scendi, senti con lo sbalzo di temperatura tutta l'escursione termica a cui sei stato sottoposto. E quindi vi esce il rossore, vi esce l'abbronzatura, la pelle comincia a darvi un po' fastidio. Allora, questa la mettete ed è veramente una panacea. Una cosa meravigliosa. Io adesso l'ho finita. Ho visto che c'è il barattolo da 110 ml, che costa sui 30,45 euro, ma io questa la ricompro, perché è una delle migliori maschere che io abbia mai provato. Disarrossante, lenitiva, calmante, rinfrescante. Quando ci sono quelle giornate di calura assurda, io anche se non ne avevo bisogno me la facevo, perché sentivo questo fresco che mi rimaneva sulla pelle per quella mezz'oretta in cui la tenevo, poi ve la risciacquate. E la pelle è molto, molto lenita, più chiara, disarrossata, soprattutto per me che ho un po' di cuperose qua sulle guance. Fantastica, veramente, veramente fantastica. Stupenda. Questa io ve la consiglio. E della stessa linea, praticamente, c'è la Essence. Questa l'ho comprata in un altro ordine, sempre su Stelvana. C'è questa Essence. Anche qui ho comprato, perché volevo provare, la Travel Sites. Questa sono 30 ml, 30 o 50. Perché non ci vedo? A me paiono 30 ml, ma non vedo una cippa. Comunque poi dal link ve lo metterò. Ah sì, no, ce l'ho qua scritto a caratteri cubitali. 30 ml. Ciao. Va bene. Anche qui, estratto in acqua al 100% di Artemisia, è una Essence favolosa. Stessi principi, stessi funzioni della maschera. Non aggiungo altro, perché ho parlato mezz'ora di questa maschera. Le stesse cose le fa la Essence. Stupenda. Vi ripeto ancora che io senza Essence e senza Mist non ci sono. Adesso interrompo un secondo e vado a togliermi la crema dalle mani. Ci vediamo dopo. Rieccoci. Allora, vi ho detto prima che la niacinamide sulla mia pelle fa miracoli. Soprattutto perché ho una pelle mista grassa, perché ho una pelle che ha delle discromie, ho una pelle che si arrossa molto facilmente, ho un principio di cuperose proprio qui, sotto qui. E ho finito, quasi finito, il mio siero alla niacinamide di Nakomi, con il quale mi sono trovata benissimo. E avevo ricevuto in campione un campioncino di questo siero. L'avevo trovato, mi pare, in una rivista. Era attaccato a una pagina di una rivista. La Roche-Posay. La conosciamo tutti. Un siero che ha comunque un suo prezzo, perché non è low cost, o almeno per me non è low cost. Io, dovendo fare un acquisto su una farmacia, una parafarmacia online, dove ho comprato dei prodotti di Codalie, perché la mia amica Pippi, ovvero Laura, ovvero la mia amica di Merenda, che ha un canale YouTube, che poi vi metto, perché Laura è una ragazza splendida, una mia amica da tanti, 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 tanti anni. Abbiamo avuto un percorso da foodblogger insieme, poi ci siamo riavvicinate entrambe alla maglia, e poi ci siamo riavvicinate, ci siamo avvicinate alla skin care. Laura la conosco davvero da tanti anni, l'ho anche conosciuta in ambito lavorativo suo, come fotografa a degli eventi di cucina al quale abbiamo partecipato insieme. è una ragazza deliziosa, una ragazza alla mia età, quindi è una ragazza deliziosa, ha un animo gentile, un animo nobile e generosissima. Pensate che io ho imparato a fare le fotografie, ho imparato da lei alcuni trucchi per poter migliorare la mia tecnica fotografica quando facevo le fotografie di food, lei non si è mai risparmiata, le telefonavo e lei mi rispondeva, le scrivevo e lei mi rispondeva, mi dava consigli, è generosissima, quindi è davvero una persona che apprezzo e ammiro, e a cui voglio tantissimo bene. Lei ama particolarmente il marchio Codalì, ultimamente appunto ho fatto vedere alcuni acquisti, io mi sono fatta, ho seguito l'onda della Pippi e sono andata, e ho comprato questi prodotti che erano molto scontati, e non avevo la Essence e quindi ho comprato la Essence, però poi c'era anche il burro corpo, ho comprato il burro corpo, poi ve li farò vedere, e c'era scontato a 28,50 euro, mi pare che costi 32,33, dipende dai siti, questo si era la niacinamide. Allora, il 10% di niacinamide pura e acido ialuronico, io dalla prima applicazione ho capito la differenza, cioè per me questo siero è miracoloso. lo metto principalmente alla sera, perché di giorno uso altri sieri, e è una settimana che lo uso, ed è una settimana che secondo me la mia pelle è cambiata. Vuoi per tutte le cose che ci metto insieme, vuoi per quello che è, per me questo siero è favoloso. A parte il profumo davvero molto delicato, ecco l'unica cosa che non mi piace è questa pipettona, questo lo devo dire, che quando rientra e c'è su ancora un po' di siero, spreco un po' di siero che va sulle pieghette qua dell'avvitamento, e questo mi dà un po' fastidio, quindi userò una mia pipetta che è leggermente più sottile. Allora, il siero è così, molto lattiginoso, ecco, lifting puro, per me è lifting puro. Crea, come se creasse una pellicola che istantaneamente vi tende la pelle, ma non tende perché tira o perché vi dà fastidio. Cioè, è una sensazione stranissima. A me sta piacendo tantissimo e vi dico che secondo me anche per merito di questo siero il colorito della mia pelle è cambiato, si è uniformato e come vi ho detto al momento io sto utilizzando soltanto o una BB cream o addirittura la cipria e non mi viene il nome moderno, il fard. Si assorbe, non appiccica, ma regala una morbidezza, un'elasticità alla pelle che per me è assolutamente favoloso, vale tutti i suoi 28 euro. Quindi questo sarà sicuramente, sono certa, un mai più senza. Buonissimo, mi piace davvero tantissimo. Altro siero che questo è da un po' che uso e ho quasi finito e mi spiace tantissimo, è il famosissimo Midnight anti-età dell'Oreal. Allora, questo l'ho comprato parecchi mesi fa, sempre su make-up.it, lo sto utilizzando da circa due mesi e secondo me la combo di tutti questi prodotti insieme, di pulizia, di essence, di mist, di collagene, tutto quello che volete, la mia pelle è modificata, è cambiata. è paragonato al famosissimo siero di Estée Lauder, io non lo posso paragonare perché non l'ho mai provato perché costa un capitale e spero di trovarlo un giorno in sconto o che qualcuno me lo regali per poterlo provare, però francamente a quei prezzi anche no. io non so che cosa faccia il miracoloso siero di Estée Lauder ma vi dico che sulla mia pelle questo è miracoloso. Una pelle levigata, liftata, rimpolpata, tirata, per me è fantastico. Ha una texture molto molto leggera, si assorbe velocemente, un profumo che è delizioso, un mix di frutta ma di fiorito, un mix insieme che è spettacolare. La texture è questa, anche questo come vedete sta arrivando il Mauri che è andato in discarica quindi mi sa che dovrò interrompere ancora. Favoloso. questo quando lo finirò sicuramente lo ricomprerò perché io ho notevolmente visto sulla mia pelle un cambiamento da quando lo uso quindi ve lo consiglio, ve lo straconsiglio. Questo costava ai tempi quando l'ho comprato io 18,86 in offerta su Makeup non so adesso che prezzo abbia comunque vi ricordo sempre che se andate sul sito trovaprezzi.it che è quello che faccio io trovate la migliore offerta poi è ovvio che ci scappa sempre dentro qualcos'altro insieme però vabbè ok adesso vediamo se riesco a finire questo benedetto video o se dobbiamo interrompere chiedo al Mauri di non entrare lo lascio fuori rieccomi ho bloccato sul nascere l'entrata del padrone di casa padrone di casa sono anch'io il padrone di casa vi mostro gli ultimi prodotti cerco di fare la svelta spero di essere veloce ma non lo sarò allora anche da qui capite che l'ho usato parecchio anche questo era uno degli ultimi prodotti che mi ha inviato Stylevana e questo siero è un portento è stata la mia salvezza quest'estate l'ho utilizzato quasi ed esclusivamente come unico siero quando faceva veramente così tanto caldo è un siero bifasico vedete e quando lo spruzzate è così vaporizzazione meravigliosa io non lo andavo neanche a spalmare adesso qua ve lo faccio vedere perché comunque si assorbe quasi subito poi con il caldo che faceva si assorbiva in un nanosecondo ed era l'unico siero che io ho messo tutta 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 l'estate è stata la mia salvezza con il tartufo d'alba anche questo lo trovate su Stylevana il prezzo è 17,74 poi avrete sempre lo sconto del 10 o del 15 per cento un siero portentoso che idrata a fondo la pelle oserei dire quasi come una mist ma io veramente l'ho usato proprio come siero un siero che è arricchito con il tartufo bianco d'alba con l'olio di avocado con gli estratti di giga white e di lotus è un siero idratante che regala un nutrimento alla pelle perché se voi volete avere una routine beauty veloce di quelle che non volete 50 sieri non volete troppe creme oppure siete di fretta veramente detersione siero e crema e andate avanti tutta la giornata senza avere la pelle secca senza avere la pelle che vi tira un siero che vi dà una luminosità che idrata che nutre che leviga è per me uno dei sieri più belli che io abbia mai provato paragonabile anche a dei sieri che magari sono molto più corposi più cellosi che poi magari dovete massaggiare questo non ha assolutamente bisogno di massaggio shakerate ben bene ve lo spruzzate in un minuto si assorbe senza neanche massaggiare e siete pronte per mettervi poi la crema le spf e andare per tutta la giornata siete a posto quindi davvero se avete intenzione di così avere anche una una skin care routine express chiamiamola così molto easy questo per me è perfetto è davvero meraviglioso e questo mi ha salvato la pelle quest'estate perché io utilizzavo esclusivamente questo detersione mist siero spf neanche la crema ed ero a posto per tutta la giornata veramente miracoloso bellissimo buono con un profumo fiorito delicatissimo piacevole quando lo spruzzate sul viso vi regala proprio una sensazione anche di freschezza usato d'estate ma lo sto continuando ad usare alla mattina questo perché è veramente un siero leggero che mantiene proprio la pelle idratata nutrita elasticizzata veramente ottimo 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 adesso arriviamo al numero uno di tutti questi prodotti questa io ve l'avevo già presentata come una crema multifunzione è una crema meravigliosa meravigliosa tra tutti questi prodotti se dovessi scegliere un prodotto che non può mancare nella mia skin care è questa crema allora l'ho utilizzata tantissimo e sembra che si riformi l'ha utilizzata Paolo e l'ha utilizzata Mattia adesso vi dico anche in quale situazione e ha risolto il problema una crema riparatrice lenitrice che ricostruisce la pelle che dà un'idratazione profonda una crema leggerissima perché è in gel e voi non vi accorgete neanche che la state spalmando guardate va a rottura e diventa un'acqua è meravigliosa meravigliosa sul sito di Stylevana la davano anche come una crema multifunzione adatta alle irritazioni da pannolino adatta alle irritazioni anche se avete delle irritazioni nelle parti intime questa crema è miracolosa io vi avevo detto che l'avevo usata così perché non avevo nessun'altra crema a disposizione quando ero andata a fare il campeggio con i ragazzi che mi ero scottata e mi aveva risolto la scottatura senza davvero formarmi nessuna vescica ed era una scottatura in cucina da vapore quindi una scottatura che dà fastidio e crea delle vesciche con questa crema l'avevo messa e dopo due giorni non avevo assolutamente più nulla al momento che l'avevo messa mi aveva dato una sensazione di freschezza e il bruciore della scottatura non l'avevo più sentita l'ho usata in vacanza quando sempre sono andata in montagna pelle arrossata comunque dal vento dall'aria dall'altezza fantastica in più mi sono venute delle vesciche ovviamente perché io sono una camminatrice nata e quindi con gli scarponi mi sono venute le vesciche messa sulle vesciche il giorno dopo non c'era la vescica la pelle non si è staccata mi ha creato mi ha ricostruito la barriera cellulare in pochissimo tempo una crema miracolosa Paolo e Mattia l'hanno utilizzata perché purtroppo in estate loro soffrono di iperidrosi ai piedi e ragazzi se non sapete che cos'è l'iperidrosi è una eccessiva sudorazione dei piedi tenendo poi le scarpe Mattia ha fatto tutte le state il cameriere quindi ha tenuto le scarpe da ginnastica o anche le scarpe quelle di cuoio praticamente 24 ore su 24 arrivava a casa ragazzi non poteva togliere le scarpe poverino perché c'era da morire ok e in più aveva dei tagli profondi sotto la parte sotto la pianta del piede ma profondi arrossati come se ci fossero delle vesciche le ho proposto ho proposto questa crema dopo due giorni la situazione dell'iperidrosi è completamente scomparsa quindi io questo lo considero sì una crema cosmetica ma una crema curativa un balsamo miracoloso portentoso portentoso questa per me è un mai più senza se dovessi scegliere tra tutti questi prodotti io scelgo questa crema e non ve la consiglio ve la straconsiglio il prezzo è 21 euro e 33 sempre sul sito di Stylevana per 80 ml ma credetemi vi dura una vita ed è una crema che potete utilizzare secondo me per qualsiasi tipo di problema come screpolature rottura di pelle data da vescica come ho provato io arrossamenti della pelle pelle secca pelle che ha bisogno di essere lenita di essere disinfiammata questa è una crema davvero portentosa e l'ho sperimentato in varie occasioni oltre che ad essere una crema che io utilizzo sul viso alla sera come maschera idratante perché è una favola è rinfrescante si assorbe avete visto che si trasforma in acqua quando va a rottura e quando si spalma è una crema che dovete assolutamente avere e questa io ve la consiglio vi ordino di comprarla perché è davvero davvero una crema multifunzione stupenda poi passiamo agli ultimi articoli crema di biofficina toscana un'azienda italiana che sto apprezzando tantissimo sto provando anche degli altri prodotti mi piacciono tantissimo questa crema anche questa ve l'avevo forse già fatta vedere non ricordo forse in una skin care routine crema gel viso alla malva questa crema è una crema che io utilizzo praticamente soltanto alla mattina come crema base trucco prima di utilizzare l'SPF e poi prima di truccarmi una crema davvero molto delicata una crema in gel anche questa si assorbe subito quando va a rottura ha un profumo delicatissimo di fiori di campo in un campo fiorito dove ci sono le margherite dove c'è la camomilla dove c'è il fiordaliso molto molto delicato completamente assorbita non c'è più regala morbidezza nutre la pelle senza essere pesante è molto molto leggera anche questa è disinfiammante l'unitiva perché contiene comunque la la mucillagine di malva la malva ha degli effetti benefici sulla pelle e anche sul corpo se la bevete come infuso come macerato come tisana è favolosa il sapore non è il massimo quando la bevete però credetemi è davvero portentosa questa è una crema che ha una texture leggerissima apporta idratazione calma la pelle la lenisce io la uso quando la mia pelle magari è stressata quando ho avuto magari anche una giornata pesante dove sono stata in giro tanto dove la mia pelle è stata sottoposta a stress perché magari mi trucco e poi quando mi strucco ho bisogno comunque di una crema molto leggera ecco qualche volta appunto la utilizzo anche alla sera ma principalmente la utilizzo la mattina come base come base crema per poi applicare l'SPF e poi il trucco il trucco questa secondo me è una crema davvero molto 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 buona molto efficace costa 18 euro e 40 la trovate su su vari siti non so se su nuvole di nuvole blu oppure anche su bio bio boutique la rosa canina la trovate forse anche su pinali insomma voi ricercate la in google cercate dove c'è il prezzo più conveniente e fateci un pensiero perché questa è un'azienda che merita è un'azienda italiana che davvero merita tantissimo momento gourmand la mia crema serale alla banana la mia coccola personale alla banana una crema in gel di essence che mi ha stupito allora innanzitutto il profumo delle caramelle alla banana se anche voi si ma veramente che sensazione allora io ricordo queste caramelle perché al bar dell'oratorio le vendevamo sfuse e se tu non raggiungevi un certo livello come animatrice organizzatrice ed educatrice non potevi entrare al bar dell'oratorio quando tu c'entravi vuol dire che eri un livello superiore potevi servire le caramelle al bar e io mangiavo quintalate di caramelle alla banana quelle gialle di questo giallo con lo zucchero sopra ebbene voi vi state spalmando sul viso le caramelle alla banana e questo profumo vi inebria se vi piace ovviamente è meravigliosa è una crema in gel leggerissima si assorbe subito ma subito 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 vi regala una coccola e vi lascia uno strato sul viso come se voi avreste messo come se avreste fatto il lifting cioè pelle rimpolpata pelle luminosa pelle più tonica più elasticizzata morbidissima una crema che io vi consiglio per il prezzo esosissimo di 4,90 euro io la sto utilizzando da quasi due mesi e non finisce cioè non si consuma credetemi e ne metto una quantità abbastanza abbondante perché voglio sentire il profumo della banana che mi piace tantissimo so che alla Simona di Beauty Passion piace la banana se non l'hai provata Simo questa io te la consiglio perché è un tuffo in un sacchetto di caramelle alla banana con lo zucchero è molto leggera ma è anche molto nutriente quindi io la utilizzo esclusivamente alla sera anche perché ne metto una quantità industriale con cosa accompagno questa crema sempre con un altro prodottino di essence che io trovo spaziale questa maschera in gel alla lavanda che innanzitutto con questo profumo di lavanda vi deve piacere il profumo di lavanda perché qua si sente si sente vi da un aiuto per addormentarvi meglio cioè ha un effetto rilassante sul il momento dell'andare a letto è una sensazione una coccola meravigliosa anche qui sembra che vi siete spalmati una pellicola la sentite sulla pelle la sentite non perché vi regali untuosità perché sia molto grassa assolutamente non è grassa è un gel ma voi sentite che avete applicato una maschera io questa la utilizzo proprio dopo la crema proprio una maschera notturna almeno due tre volte alla settimana perché mi piace un botto se poi d'estate quando fa quel caldo opprimente che abbiamo avuto quest'estate la mettete in frigorifero e voi ve la spalmate avete una sensazione di freddo non glaciale ma un freddo rilassantissimo cioè meraviglioso è davvero c'è Cody che sta cercando di entrare perché il padrone è fuori ma Cody vuole entrare un attimo Cody è veramente un portento e questa costa 5 euro e 29 ma io questa ve la consiglio cioè questi due prodotti se volete una skin care a basso costo ma con dei prodotti che secondo me sono ottimi questi due li dovete assolutamente provare certo vi deve piacere il profumo di banana e vi deve piacere il profumo di lavanda indipendentemente dai profumi queste due creme le trovo validissime per il prezzo che hanno e comunque quando voi le mettete alla mattina la differenza sulla vostra pelle la vedete la vedete la vedete credetemi poi ultimi due prodotti questa che ho quasi finito perché l'ho utilizzata tutta l'estate non sto a dilungarmi sui prodotti SPF coreani lo sappiamo perché l'abbiamo provato lo abbiamo sentito in tutte le salse hanno una marcia in più dai prodotti italiani europei o di qualsiasi altra nazionalità i coreani hanno un'attenzione proprio alla protezione solare che creano delle protezioni solare che sono leggerissime sulla pelle voi non le avvertite anzi io tante volte alcune volte come vi ho detto utilizzavo il siero e andavo direttamente con l'SPF e mi faceva tutto questa è una crema vedete non c'è più non crea scia bianca non esiste la scia bianca voi sentite che vi nutre la pelle che vi protegge ma non sentite assolutamente i filtri solari è una crema come se fosse una crema base non avete la sensazione delle protezioni solare che siete abituati di solito ad usare questa protegge da tutto perché aspettate che lo leggo da qua SPF 50 più 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 quindi protegge dai raggi UVB UVA dai raggi ultravioletti cioè protegge da tutto è uno schermo totale io l'ho provata l'ho usata quest'estate esclusivamente come crema protettiva del viso senza mettere nessun'altra crema protettiva non mi sono scottata non mi ha dato nessun tipo di irritazione non mi ha dato nessun tipo di problema ha permesso comunque una bronzatura leggera ma l'ha permessa fantastica 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 anche questo prodotto lo trovate su Stylevana questo mi era stato mandato in omaggio io però l'avevo già comprata di mia iniziativa quindi ne ho un'altra in scorta e ne ho un'altra da finire che è quella di Purito che però trovo leggermente più densa un pochino più corposa e quindi preferisco utilizzarla quando saremo in inverno che avrò bisogno di un'idratazione un pochino più profonda e un pochino più too much non so come dire più ecco questa invece è davvero leggerissima e sta quasi per finire la porto ad esaurimento in questo ultimo mese ottima questa la trovate a 15,90€ come vedete tutti i prodotti a parte i due prodotti che sono un po' di alta fascia se vogliamo dire per il mio portafoglio gli altri sono tutti quasi tutti sotto i 15€ anzi abbiamo alcuni prodotti che sono sotto i 10€ ultimo ma come si dice non per importanza anzi ultimo perché questa è una chicca e anche di questo ve ne avevo parlato perché mi aveva regalato delle sensazioni meravigliose è il Black Rice Facial Oil di Aruaru Wonder questo vi ho già elogiato tutte le meraviglie nel video di presentazione non ve le sto a ridire vi lascerò poi i link dei due video in cui ho presentato i prodotti che mi ha inviato Stylvana è un olio che va applicato a fine skin care io lo applico solo ed esclusivamente alla sera perché avendo la pelle mista grassa alla mattina preferisco non utilizzare nulla che sia a base di olio questo è aromaterapia pura 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 oltre all'effetto levigante oltre all'effetto rimpolpante oltre all'effetto lisciante idratante ammorbidente metteteci dentro tutto quello che volete secondo me la caratteristica più bella è che questo olio profuma e vi regala una sensazione di benessere che vi entra dentro che vi accompagna a fine serata che vi regala una coccola soltanto per voi profuma di lavanda ma io ci sento anche se non li ho trovati come ingredienti ci sento un mix di erbe aromatiche come il timo come il rosmarino il rosmarino c'è la lavanda sicuramente per me questo è una coccola che mi concedo una volta ogni tanto perché non vorrei che poi magari mi creasse qualche imperfezione essendo comunque un mix di oli che vado a mettermi sul viso ma è un olio si rivitalizzante ma proprio anche perché per questa azione aroma terapeutica per me davvero mi regala quel momento di relax di pace di tranquillità mi fa stare in pace con il mondo intero una giornata che mi è andata male in ufficio dove mi sono incacchiata dove un lavoro non mi è andato bene dove sono stata in giro tutto il giorno ecco quando ho queste situazioni particolari io questo lo uso e mi regala una pace interiore meravigliosa oltre che avere tutti i benefici comunque del riso e dei varioli regala veramente questa sensazione di morbidezza di compattezza della pelle che è veramente meravigliosa bene ragazzi i ragazzi ho parlato tantissimo vi ho presentato tutti i top del momento per me che riguardano la mia skin care alcuni li utilizzo la mattina alcuni li utilizzo la sera possiamo magari vederli in azione in qualche skin care serale o qualche skin care mattutina fatemi sapere se magari avete voglia di passare quei 20 minuti insieme e vi faccio vedere come uso i prodotti di skin care vi ho già tenuto fin troppo attaccati al video al telefono al pc vi saluto vi auguro un buon weekend e sabato sera adesso noi andiamo a comprarci una bella pizza in pizzeria perché lei non ha voglia di cucinare nonostante sia una food blogger o sia stata una food blogger tutti i link di riferimento dei prodotti degli sconti e il link al canale della mia amica Laura in arte pippi e in arte io così come sono se non ricordo male il suo canale così comunque è Laura Dani voi la cercate e la trovate ma ve lo lascio sotto e che altro dirvi cercate di rilassarvi con qualsiasi cosa voi abbiate voglia di fare e di passare un buon weekend un sereno weekend ricaricate le pile per ripartire poi con una settimana piena di cose da fare io vi abbraccio vi saluto vi ringrazio davvero tantissimo perché stiamo diventando tantissimi io ne sono proprio contentissima vi ringrazio per tutti i bellissimi commenti che sempre mi lasciate se volete ricevere gli aggiornamenti iscrivetevi al canale se vi piace se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su ogni tanto lo dico anche se non lo dico fa niente però va bene ogni tanto lo fate lo faccio sempre alla fine e e che dirvi a presto e ci rivediamo al prossimo video ciao e buona serata e buona serata e buona serata